Luca Doninelli che insieme a me è uno dei direttori artisti di questo teatro arriva a sostenere che il linguaggio del rap è praticamente imparentato in un qualche modo con la lingua di Alessandro Manzoni Manzoni ha scritto questo romanzo, ahimè, è spesso considerato noioso perché lo si studia a scuola eccetera Sì per me è il simbolo proprio, viene in mente Don Rodrigo che sogna col bubone sotto che si sveglia che è proprio una cosa che... si sveglia che ce l'ha veramente Pazzesco Questo era matto Il Manzoni oltre a creare una lingua particolare è un romanzo dove si è occupato degli ultimi, dei diseredati Assolutamente Diciamo che il rap comunque storicamente, sai, sappiamo tutti che nasce come musica proprio del popolo, della gente poi si è trasformato negli anni nel vuoto, nel nulla Sicuramente c'è un filo conduttore ha sicuramente un grande fondo di verità questa cosa Grazie a tutti